Il mondo in cui viene svolto il lavoro è in rapida evoluzione e le persone si trovano a collaborare con bot e intelligenza artificiale. La piattaforma di automazione low-code di Appian unisce questa nuova forza lavoro mista e fornisce il modo più rapido per guidare i flussi di lavoro in tutta l'azienda. L'automazione completa di Appian combina RPA Cloud nativa altamente gestita, workflow, regole decisionali, intelligenza artificiale e case management fornendo la tecnologia giusta per il caso d'uso giusto. Le attività lavorative si svolgono in maniera trasparente tra bot e persone consentendo a quest'ultime di concentrarsi sulle mansioni complesse lasciando quelle ripetitive ai bot. Grazie all'RPA di Appian puoi automatizzare volumi elevati di attività in qualsiasi workflow aziendale senza compromettere il ruolo della forza lavoro umana che ha sempre il pieno controllo della situazione e può gestire i problemi in modo tempestivo con una visibilità totale sulle performance dell'RPA. Inoltre l'RPA di Appian si integra con qualsiasi sistema anche quando le API non sono disponibili. I bot lavorano con sistemi e dati proprio come fanno gli utenti ma con maggiore precisione e molto più velocemente. L'RPA di Appian viene eseguita sul cloud di Appian facilitandone così l'implementazione rapida in tutta l'azienda. Le esigenze aziendali sono in continua evoluzione e per questo Appian non pone limiti al numero di bot che è possibile sviluppare. Inoltre li si può implementare su Windows o Linux per un RPA flessibile ed economica. I bot RPA di Appian si basano su Java, caratteristica che offre maggiore controllo agli sviluppatori. Può sviluppare bot sofisticati in grado di gestire anche le attività più complicate e poiché la tecnologia Java è molto diffusa puoi fare affidamento sugli sviluppatori Java già presenti nella tua organizzazione. Con Appian i potenti strumenti di intelligenza artificiale e apprendimento automatico si integrano perfettamente nei tuoi workflow automatizzati come l'elaborazione intelligente dei documenti, IDP, che riconosce e classifica automaticamente i dati per aumentare velocità e precisione. Appian supporta il tuo centro di eccellenza per l'automazione con potenti funzionalità di pianificazione e implementazione. Questo semplifica il monitoraggio e la gestione dell'RPA di Appian, dei bot di terze parti e dei processi aziendali da un unico hub, per un maggiore controllo all'interno dell'organizzazione. È giunto il momento di semplificare le attività della tua azienda. Visita appian.com.rpa per scoprire come.